ciao e bentornati sul canale bentornati sul canale allora allora è appena uscito dopo questo che non vi abbiamo fatto vedere tra parentesi abbiamo trovato il mio personaggio preferito è la sanrio che adesso apriamo in diretta perché non l'avevo ancora aperto sinceramente che carino è un po piatto però è bello lo stesso si hanno avuto la grandissima idea di unire cartellino forma di api mille bellissimo l'epi mille con la primo e quindi questa è solo giocattoli veri e propri nel senso che a volte sono simili si avvicinano in questo caso è un vero raga ma poi abbiamo trovato la più bella secondo me allora qui non si vedono tutti c'è l'elefante lo vediamo il gorilla ho detto il gorilla il coccodrillo il leone dietro abbiamo la scimmia ma di sicuro mi ricordo che c'è il delfino il pesce martello la tartaruga e non mi ricordo cos'altro potete trovare sul sito a meno che non c'è una checklist all'interno della scatola ma ne dubito fortemente però devo dire che amando abbastanza i playmobil sono contento che ci siano i playmobil si non rovinano la scatola è anche più bello è anche più bella allora qui abbiamo la cards descrittiva allora onestamente è anche più bello di senza affesa delle delle cose lignone quelle di carta o robe così ah sì sì no l'importante che sono personaggi perché è anche già montato raga è proprio scusate un bellissimo playmobil le si muove leggermente articolato ma è già montato non dovete montare niente non è proprio proprio playmobil playmobil macchiato si muove il collo la coda no si muovono le zampe si chiudono così si aprono amore è veramente veramente bella la green sea turtle è 1,4 metri per 55,1 quasi un metro e mezzo è bella grossa è come te più o meno tu sei un po' più alto di un metro e mezzo pesa 185 chilogrammi e pesa un po' più di me per 48 ibs è libre in quel caso scritto no aspetta ibs ah sì inch libre e miglia viaggia 24 chilometri orari poi c'è anche 15 miglia orari c'è la scritta sia in chilometri che in miglia nelle due modalità devo dire che è una che sia in tutte e due l'elefante è molto più grosso questo è piccolina come no ma poi devo dire che c'è andata anche di fortuna perché riferendomi anche a questo tutte e due abbiamo trovato i miei personaggi preferiti assolutamente sinceramente questo era quello che volevo trovare esattamente perché gli altri mi piaciano meno forse questo era veramente più bello decisamente quindi vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare scacciare la campanella per ragionare su tutti i video e come sempre noi vi salutiamoci a un prossimo video ciao